A dominare la piazza Garibaldi vi è Casa Modoni, essa è stata realizzata nel diciottesimo secolo, precisamente nel 1796. Per due anni, a partire dal 1938, il palazzo accolse le attività politico-istituzionali del comune di Palmariggi, prima che tali funzioni fossero esercitate nei pressi del poco distante Palazzo Vernazza. La graziosa struttura per diversi anni fu adoperata anche come istituto scolastico, ospitando nelle proprie stanze le aule della scuola elementare. Ciò che colpisce di più del palazzo è la bellissima balconata, costellata di freggi artistici in ogni sua parte e arricchita dal blasone della famiglia Modoni. Lo stesso blasone compare anche in cima al portale di Palazzo Modoni, ubicato a poche decine di metri da piazza Garibaldi. Le strutture rappresentano parte del patrimonio donato ai concittadini di Palmariggi dai fratelli Gabriele e Giuseppe Modoni, per compiere opere sociali. sul lato nord-ovest della struttura e affacciata sulla piazza del paese è presente la torre dell'orologio, che segna le ore e le ricorda i cittadini di Palmariggi con i rintocchi delle campane. Essa fu realizzata nel XIX secolo, nel periodo compreso tra il 1885 e il 1889 e ancora oggi domina con la sua sopria bellezza sulle abitazioni del paese. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.